Serve una commissione d'accesso per valutare lo sceglimento del comune. Chiederò anche ai parlamentari Udc un'interrogazione al ministro Bonafede. Così il segretario provinciale dell'Udc Salerno, Mario Polichetti, interviene sull'inchiesta culminata con diversi arresti nella giornata di ieri. Sugli affari con ambulanze morti che hanno portato la procura di Salerno ad arrestare 10 persone a colpire l'impero dell'imprenditore Roberto Squecco a Capaccio Pestum, credo che il governatore Vincenzo De Luca debba pensare seriamente a commissariare l'Asra Salerno. Apprendo dalla stampa, continua Polichetti, di gravi mancanze da parte dell'Asra Salerno. Sono stati creati documenti falsi per concedere l'ok al servizio del 118 nella zona di Capaccio Pestum. Mi chiedo dove era il direttore generale in primis e chi avrebbe dovuto controllare tutto questo. Ovviamente bisogna immediatamente commissariare l'azienda sanitaria locale di Salerno per dare un segnale dopo quanto emerso dalle indagini. Inoltre mi auguro che in un eventuale processo l'azienda possa costituirsi parte civile per i danni d'immagine e non solo che questa storia sta provocando alla principale istituzione della sanità pubblica in provincia. Chi ha sbagliato, anche se si tratta solo di non avere controllato deve pagare. Sul fronte politico Polichetti si associa alla richiesta del presidente della fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo, che ha chiesto subito una commissione d'accesso al comune di Capaccio Pestum. La moglie di Squecco è una fedelissima del sindaco Franco Alfieri. Proprio per il bene dell'amministrazione comunale concordo con Dario Vassallo. Chiedo alla commissione antimafia di sollecitare il ministero dell'interno affinché venga nominata una commissione d'accesso per prendere in considerazione l'ipotesi dello scioglimento dell'ente. Chiederò anche ai parlamentari dell'Udc di muoversi in tal senso per presentare un'interrogazione specifica al ministro Alfonso Bonafede. Diciamo questo come segretario provinciale dell'Udc dal punto di vista politico è importante dare un segnale ai cittadini commissariando l'ASL perché non si può continuare a ripetere che non si sa. Cioè non si può far finta di non sapere rispetto a responsabilità così gravi e così serie. Non dimentichiamoci che si amministra danaro pubblico e bisogna dar conto ai cittadini soprattutto a quelli che soffrono. Come ha già fatto ieri il presidente della fondazione Vassallo Dario Vassallo lei chiede una commissione d'accesso. Commissione di accesso agli atti nel pieno rispetto del prossimo della professionalità, della azione politica che è sicuramente improntata nel rispetto del bene comune però noi chiediamo di conoscere gli atti amministrativi che sono alla base di questi procedimenti.